Qui vi presentiamo le 5 migliori smerigliatrici angolare a batteria. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. DeWalt DC413KN, 28V elettrici senza fili smerigliatrice. Creato con un motore ad alte prestazioni, esegue 6500 giri mini, fornendo un'elevata potenza per applicazioni di taglio e rettifica. È realizzato con un sistema di sicurezza unico e con spazzole intercambiabili. La sicurezza della lama a sgancio rapido è estremamente flessibile, insieme a un comodo interruttore di blocco rivestito in gomma. L'impugnatura laterale con due regolazioni favorisce la presa e garantisce il massimo controllo dell'attrezzo. Il blocco dell'albero consente di trasformare le ruote in modo rapido e anche conveniente. Passando al numero 4. Enel 4430113 di smerigliatrice angolare a batteria PXC. Pesa solo 1,6 kg e le procedure 28x23,7x10,8 cm, che lo rendono adatto per il taglio. La molatura e la limatura operano in completa libertà di attività. È sviluppato con un'impugnatura ergonomica Soft Grip, insieme a un affare extra che può essere posizionato in tre posizioni. Garantisce la massima integrità di utilizzo grazie a molteplici sistemi di sicurezza Soft Start, sicurezza contro avvio non intenzionale e protezione contro sovraccarichi per una lunga dura. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Makita VGA 452 RFE, smerigliatrice angolare senza filo. Le sue misure 31,7 x 12,9 x 12,6 cm lo rendono comodo da tenere e il peso ridotto 1,9 kg lo rendono un dispositivo efficace e allo stesso tempo comodo. La sua tensione è di 18V ed è dotato di un disco sgradevole con una dimensione di 115 mm. È realizzato con funzione antiriappio, limitatore elettronico esistente, cura laterale. Include batterie agli ioni di litio, oltre al caricabatterie RAP. Almostat è top of our list at number 2. Black QD KERVC G720 M1 QW smerigliatrice angolare a batteria 125-115 mm in soft bag. Grazie alla potente batteria a litio da 18V 4.0 A, il dispositivo consente di funzionare ovunque anche in spazi ristretti, senza l'ingombro del cavo. La sua batteria è anche compatibile con gli articoli del sistema a litio da 18V per il fai-da-te e il cortile. Qualsiasi tipo di operazione di taglio può essere eseguita in vari materiali come piastrelle, acciaio e plastica o operazioni di mulatura come l'eliminazione della corrosione. E infine il numero 1 della nostra lista. Voce Professional 06019F2003 smerigliatrice angolare GWS12V76 System È un elettroutessile maneggevole in ogni tipo di situazione con un efficace motore EC Brusel, estremamente compatto ed ergonomico per rapidi tagli in cantiere. Il design è identificato dalla modalità di sostituzione rapida del disco, molte grazie al nuovo fissaggio del perno. Assicura un utilizzo flessibile su una vasta gamma di prodotti e garantisce un'elevata sicurezza e protezione individuale grazie all'arresto rapido del disco. Due specialista per dischi da taglio Enox e un disco da taglio Carbide Multiveso e maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.